Buon Santo Stefano a tutti ragazzi, ciao a tutti quanti, grazie mille per il supporto che mi stai dando durante queste feste, siamo live, ci siete sempre, è vero che sono feste un po' particolari, quindi Crax vi fa compagnia credo oggi pomeriggio e anche questa sera, dopo cena, dopo i festeggiamenti, l'ennesima cena, basta che non vi abbioccate ragazzi, non mangiate troppo, venite live, belli svegli, siamo su Brawl Stars anche a Santo Stefano e per Santo Stefano ci vuole un contenuto speciale. Raga, stagione precedente, 10 ricompense, fino ad arrivare a 70, aggiungiamo anche 11 casse enormi e qui arriva la richiesta like, se questo video supera 60 like prossima settimana, ultimo episodio, pass 2, con 60 casse enormi di fila, se non esce Ambra ragazzi mi sento male, ma potrebbe uscire anche oggi quindi seguite tutto quanto l'episodio. Codice Crax, se volete shoppare mi è stata distruggi Instagram, grazie ora a tutti quanti, raga mancano mi sembra 2000 iscritti neanche per arrivare a 1.330.000, iscrivetevi che è gratis, ve lo chiedo veramente con il cuore, primo e secondo link per Yoshi e Pandex. Andiamo a giocare sete di potere e poi panico. Il team di oggi è il team dei buggati eh, Brock diciamo in questa mappa ancora funziona, attenzione Jesse Penny dall'altra parte però. Colt lo conoscete bene, Yoshi va ad aprire, Pandex c'è il coltino. Bonnie, cerchiamo ragazzi di togliere le torrette, Maxine contro le torrette è abbastanza discreta. Se riusciamo raga a fare delle belle pushate, tipo questa, l'episodio potrebbe durare un secondo considerate. Guardate Yoshi che missilotto, Crax non ti mettere in fila indiana perché Penny sai quello che può combinare. Se andate in fila indiana, Cassa subito in difficoltà, kill di Crax, colt'avversario sta facendo delle cose. Crax continua a colpire, attenzione non ho la ulti al momento. Partita super fast, siamo ragazzi a un totale di 8 win e una lose se ricordo bene. Push sulla Jesse, ok quasi killata, killata now. Push anche per il, ecco qua mi sono fatto ammazzare però ho bustato Yoshi che può fare la ulti. Dovremmo esserci regà, la prima è andata, super fast, super schiacciante. Andiamo subito con la seconda. Sto team, copiatelo perché è sbroccato, 299 ci hanno scriptato pure la sete del potere ma non si può. Il secondo match è partito subito e ci hanno copiato la comp, quindi attenzione questa è difficile, è difficile. Se ci hanno snapperato potrebbe essere complicata perché magari ci conoscono. Boni regà perché vanno a colpire subito, Pandex colpisce la distanza, ha caricato subito un bel po' Provo ad andare laterale per colpire ragazzi e farmare eventualmente a Maxine che ha 100 di vita ma fa una bella kill sulla destra. Loro sono tutti nel mid, devo stare attento ai missilotti, però voglio togliere Maxine. Avversario l'ho tolta, posso anche... Eh mamma mia brocche! GG, 100 a 100, può succedere di tutto, siamo a 10 win, possiamo anche perdere, non è un problema. L'importante è che ci divertiamo e sicuramente con queste comp ci divertiremo un botto. Max sta colpendo molto bene, viene ammazzata e qualche danno l'abbiamo fatto. Io c'ho anche la ulti, missilotto... Eh io questo regà non l'avevo visto, però c'è 500 de life, di sicuro non verrà a pushare. Brocche ha la ulti, ho la ulti anche per bustare Yoshino. Brocche potrebbe fare delle cose, Grax va a fare danni importanti, doppia kill di Grax! Però ha bustato il nulla cosmico. Grax non andare, non devo fare, cerca di gestirla bene perché gli avversari so' buoni, se ci pushano in 3 ci fanno un 50% alla cassa. Ulti che fa molto male e lì regà stanno giocando molto bene loro, serie dire. Con calma, con calma, solo che non ho più dashate e quindi sarà tosta. Brocche sta in difficoltà, io ragazzi vado sulla cassa perché devo assolutamente riprendere un po' di danni fatti. Occhi a Maxine, prova ad ammazzarmi e probabilmente ci riesce pure, non voglio morire, anzi forse era meglio andare avanti regà, ho sbagliato io qua. Bisognava andare a pushare. Assolutamente sì ragazzi, errore mio, se perdiamo è tutta colpa mia. Però in teoria ora posso difendere in qualche modo, ovviamente mettendomi davanti, 5%, 3, 2, 1... Sì regà, mamma mia, alla fine la morte di Grax è stata anche top, era pure snipe. Buono ragazzi, per fortuna che sono morto, bella partita, GG, all'altro team andiamo con la terza. Ick, Colette, Dana Mike, doppio trower. La situazione è particolare eh, il doppio trower potrebbe anche workare. Certo, qui c'è stata subito una bella kill da atti che ho fatto aniso la cassa a sto punto. Chi me lo vieta, posso anche tornare eventualmente indietro, non ho utilizzato il gadget, ce l'ho ancora buono. Certo, se ci focussano la cassa potremmo addirittura non raccontarla. Occhio a Colette, Colette killata, bella giocata di Grax, non ho ancora la ulti quindi non mi sento al sicuro. La tasciata ragazzi non la faccio ancora, piano. Voglio recuperare la ulti e poi fare delle cose molto sexy. Colette si è mossa molto bene Colette, oserei dire. È stata molto brava, attenzione alla testata nucleare, penso che Pandex possa toglierla senza problemi. 18% fatto. Eh guardate Colette, Colette può essere buona in questa mappa con lo shield? Siete sicuri? Boost per Yoshino, Dana Mike è tosto, attenzione. Se vinciamo pure questa facciamo 3 win, boostiamo tutto il contenuto. E secondo me il box opening sarà sicuramente top. Ticca ha preso una sbagatata da anni. Aia che io sono quasi morto. 50%, ricuvero un po' di vita, vorrei provare a pushare Dana Mike. Ai limiti diciamo del possibile. Tolto Dana Mike e sto laterale, rimango qua. Cercando sempre di tenere dietro il team. Vabbè Colt ragazzi, lo conoscete tutti benissimo Coltino eh. Lo conoscete tutti stra bene Coltino ragazzi. Boost di Crax. No! Ero lì regà! Impazzisco male, 1%. Yes! 3 win, 2 schiaccianti. Video incredibile per quanto riguarda si potere. Grazie mille a tutti quelli che guardano la serie di potere. E si godono un po' dei partitozzi di Crax 3v3, che è un evento. Pandex e Yoshi. Formidabili come sempre. Primo e secondo link in descrizione, follow ateli. È Natale, stiamo sotto le feste. Si vola con il Brawl Pass. E facciamo ragazzi un emoticon, non quella dell'altra volta che ha portato malissimo. Facciamo la calzetta con Spike dentro, anche perché stiamo sotto Natale. Brawl Pass. Vecchio pass stagione precedente. Piamo le gemme, via! Ci abbiamo anche i punti di energia da prendere, così ci maxiamo instant ragazzi Brawler. E sblocchiamo una mega cassa in più. Oro 500, non ci fanno schifo. Questa qua ha dei 500 punti con calma. Quindi, cassa Brawl da prendere. Nel chilling, doppio oggetto ovviamente Edgar e Byron. Vi ricordo i 60 like, se volete le 60 casse enormi tutte di fila. Cassetti piccoli non abbiamo, possiamo cominciare ragazzi con casse enormi. Un sacco di punti di energia e voglio un sacco di skip. Però vorrei anche andare a vedere la percentuale di Ambra. Perché secondo me con tutti questi box opening ultimamente è un po' salita. Edgar non so se riuscirà a maxarlo. Spero di sì. Cassa enorme ancora! Pesante! Pesante effetto. Triple skip? Ragazzi una teoria! Il GX profeta! Il GX profeta! Di che cosa si tratta? Potrei impazzire. Potrei impazzire. Sto facendo questo video a Natale. Piano. È succe... No. Doppio skip luminoso. Com'è possibile questa cosa? Non capisco. Come fa ad esserci il doppio skip? Sto tremando ragazzi, guardate le mani. Sto tremando. Doppio skip in una gas enorme. Forse è la prima volta che lo vedo nella mia vita. Gadget di Mr. P. Volevo ragazzi la star power per utilizzarlo. Non ce l'ho ancora. E poi? Doppio gadget. Il gadget di Bo però dopo il nerf mi sembra di qualche mese fa non è più quello di un tempo. Due gadget in una gas enorme mai visti. Voglio vedere la percentuale. Cassa enorme 15-10. Non è male per niente. Andiamo instant a maxarci i brawler. Poi le mega casse. Prima gas enorme. Annamo. Certo un doppio skip per quella roba lì. Mi sento male. Edgar. Mmm. Mi sa che non lo maxiamo ragazzi eh. Altra cassa. Doppio skip Byron e Edgar. Byron max. Questo è buono. Quindi andremo sui due skip per trovare qualcosa. Uno skip Edgar a livello 8 max. Poi lo facciamo anche a livello 8. Altra mega cassa. Quando ragazzi lagga c'è qualcosa di top. E non so se avete visto ha laggato più del solito quella gas enorme lì. Quindi tenetelo bene a mente. Ne mancano 5. Poi 60 tutte di fila. Il prossimo video. Edgar 42. Fammi sto regalo brossazzo. Te prego. Un bel regaletto di quelli top. Non so neanche se riuscirò ragazzi a maxare Edgar. Spero di sì. Edgar più 47. Altra cassa enorme. Sempre lo zio Edgar. Le 10 cassa enormi sono state un po' così. Ne rimangono 60. Noi ci accontentiamo. Un attimo regà che vado al volo. A boostarmi Edgar all'8. Però per farla al 9. Forse ci riusciamo. Attenzione. Forse ci riusciamo. Non lo facciamo al 9. Ma riusciamo a sbloccare una terza mega cassa. Mega cassa ragazzi. La prima. Dammi due skip. Ti prego. Maxa almeno Edgar. Non l'abbiamo maxato. Ma lo maxiamo con la prossima. Sicuramente altre due mega casse. Dopo due skip. Grax vuoi proprio il massimo. Però stammo a Natale. Voglio il terzo skip luminoso. Ragazzi. Qui serve la schillata. Finale. Assurda. Nella mega cassa nascosta. Ovviamente non ci dai punti energia. Mega cassa numero 3. Te prego. Tiraci fuori qualcosa di potente. Escilo. Escilo. Poi ci salutiamo. Like. Iscrizione. Campanella. Ve lo dico sempre. Soprattutto l'iscrizione boys. Iscrivetevi. Ne mancano pochissimi. Fate iscrivere amici, parenti, quelli che vi pare. Let's go. 400 monete ragazzi. 400 monete. Il doppio skip è stato veramente figo. Stiamo per salutare la stagione 2. Preparatevi perché il prossimo video, la prossima settimana, saranno 60 casse enormi e sicuramente troveremo Ambra. Io non la voglio prendere a 629. Io la voglio trovare nelle casse. Casse enorme. Abbiamo 0,16,11. Vi do l'appuntamento. 1.611 like. Yoshi e Pandex. Prima e secondo link. Like. Iscrizione. Campanella. E buon santo Stefano a tutti. Ciao belli. Ciao.